Ben trovati e buona settimana a tutti da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpa. Dopo la giornata di oggi lunedì molto mite, soprattutto in quota, avremo un deciso calo termico tra martedì pomeriggio e mercoledì a causa di forti venti di tramontana a seguito di un fronte freddo in transito sull'Italia. Fino a giovedì sereno, poco nuvoloso, successivamente nubi basse marittime in aumento. Il dettaglio, oggi lunedì 3 febbraio, nubi basse alternate a velature anche consistenti sull'imperiese. Durante le ore pomeridiane nubi basse in diradamento con schiarite localmente anche ampie. Locali episodi di favonio, confinati inizialmente ai rilievi con temperature molto miti in quota. Venti generalmente deboli, meridionali sul centro levante, da est nord est a ponente. Mare molto mosso a ponente per onda da sud sud ovest mosso altrove. Temperature massime in aumento lungo la costa tra 15 e 18 gradi, nelle zone interne tra 16 e 18 gradi. Domani, martedì 4 febbraio, durante la notte al primo mattino sporadiche e deboli piogge sul centro levante, in rapido esaurimento. Già in mattinata ritorno a cieli sereni. Fino al pomeriggio possibili episodi di favonio, con temperature temporaneamente molto miti. Successivo, deciso, calo termico. Venti al mattino forti rafficati da sud ovest sull'imperiese. Deboli altrove, in rinforzo, fino a forti settentrionali ovunque, con raffiche di burrasca lungo le coste, fino a burrasca forte sui rilievi. Mare fino al pomeriggio, localmente agitato sull'imperiese per onda da sud ovest, molto mosso altrove, in successivo lento calo. Temperature minime stazionare, lungo la costa intorno a 12-13 gradi, nelle zone interne tra 8 e 11 gradi. Massime in diminuzione, lungo la costa tra 14 e 16 gradi, nelle zone interne tra 10 e 13 gradi. Dopodomani, mercoledì 5 febbraio, sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata, con cieli terzi grazie alla sostenuta. Ventilazione settentrionale, temperature minime indeciso calo e sensazione di freddo accentuata dai forti venti, con bassi valori di umidità. Venti forti settentrionali ovunque, con raffiche di burrasca lungo le coste, fino a burrasca forte sui rilievi, in attenuazione dal pomeriggio. Mare localmente mosso o stirato o sottocosta, mosso o molto mosso a largo. Temperature minime a punto in diminuzione, lungo la costa tra 5 e 7 gradi, nelle zone interne tra 2-3 gradi. Massime in diminuzione, lungo la costa tra 10 e 13 gradi, nelle zone interne tra 6 e 9 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito arpal.gov.it, sulla pagina Facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'agenzia. Risentirci! 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 Grazie a tutti.